Bentornati a Obiettivo Salute. Parliamo ora di ricerca. È stato ribattezzato Braccialetto Salva Cuore. Altro non è che il bracciale per misurare la pressione, che in base alle scoperte di un giovane scienziato può proteggere il cuore dai danni dell'infarto. Lo vediamo subito. Lo scienziato ha vinto una borsa di studio promossa dalla Fondazione Lilli. Vediamo il servizio. Dottor Vassa, siete giunti alla sesta edizione di questa borsa di studio indetta dalla Fondazione Lilli. Sarete soddisfatti dei risultati? Sì, siamo molto soddisfatti perché tutti i progetti che sono stati fino ad oggi premiati dalla Fondazione hanno avuto un grande successo alle vede internazionali. pubblicazioni nelle più prestigiose riviste scientifiche. Sono stati invitati alcuni di questi ragazzi a presentare nelle sessioni plenarie dei congressi mondiali delle loro branchie di specializzazione. Quindi questa è una grande conferma del valore scientifico dei progetti che sono stati da noi premiati e finanziati affinché portassero avanti la ricerca. Quell'idea è quella di cercare di migliorare ulteriormente quello che come cardiologi stiamo già facendo nell'infarto. Cioè quello di, il meccanismo di base è quello di andare a gonfiare e sgonfiare un semplice bracciale della pressione ad un braccio del paziente mentre il paziente viene trasportato in ospedale in urgenza per un infarto del miocardio. L'idea è quella di andare a vedere se questo meccanismo va a proteggere il cuore e soprattutto anche vedere se la combinazione di un intervento protettivo fatto prima della riapertura del vaso che si è appena occluso da un coagulo e l'applicazione anche successivamente, nei giorni successivi e nelle ore successive all'infarto può conferire un'ulteriore protezione al cuore che sta andando in infarto. Davvero molto interessante. Infatti come avete visto sono andata personalmente a vedere come andavano le cose. Tra l'altro seguiremo le evoluzioni di questo studio in futuro. Adesso cambiamo argomento. Vi presento l'ospite, il professore Albertini. Lei è responsabile del Centro per lo Sviluppo Infantile dell'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Iniziamo subito dando un po' le dimensioni del fenomeno purtroppo della disabilità infantile. Il professore Albertini sono 93 milioni i bambini nel mondo con disabilità moderata o grave. Gli studenti disabili nell'anno scolastico 2011-2012 sono stati più di 200 mila. Gli studenti disabili soffrono di ritardo mentale per il 36%, disturbi dell'attenzione per il 27%, disturbi del linguaggio per il 24% e disturbi dell'apprendimento per il 20%. E tra l'altro il 60% degli alunni disabili è maschio. Allora, professore Albertini, commentiamo un attimino questi numeri. Si tratta di numeri in crescita. Perché? Sicuramente oggi abbiamo maggiori capacità di intercettare anche precocemente alcuni problemi del neurosviluppo. Anche adesso la nuova classificazione del DSM-5 include le disabilità dello sviluppo all'interno di quelli che parliamo di disturbi del neurosviluppo. Quindi lei sta dicendo che i nuovi metodi ci permettono di individuare più facilmente la malattia. Però probabilmente c'è una maggiore incidenza di alcune condizioni. In particolare stanno diminuendo alcune patologie disabilitanti della serie maggiori che erano legate a traumi per i Natali, a sofferenze di tipo lesionale. Mentre stanno aumentando le condizioni che sono di tipo genetico-costituzionale. Ad esempio i disturbi dello spettro autistico che sono caratterizzati da una difficoltà nell'interazione sociale. La comunicazione e il linguaggio sono in netto aumento in tutto il mondo anche se non con cifre omogenee. E la ragione qual è? Purtroppo non si conosce perché probabilmente sono condizioni multifattoriali in cui aspetti genetici di predisposizione A e fattori ambientali interferiscono nel determinismo di questo tipo di sintomatologia e di questo tipo di disabilità. Poi abbiamo una maggiore incidenza invece di disturbi della serie minore del neurosviluppo. Quindi ad esempio già nella grafica avete incluso i disturbi del linguaggio, dell'apprendimento e poi abbiamo anche i disturbi delle funzioni neuropsicologiche di base che sono importantissime come l'attenzione, l'avete citata, la memoria, le funzioni esecutive che sono un po' come le funzioni organizzative del cervello. Cioè dover la capacità di definire un obiettivo, prepararmi la cartella e dover sapere individuali quali sono gli elementi necessari per il raggiungimento di uno scopo e avere, noi li chiamiamo, dei sistemi di monitoraggio cognitivo e sociale che ci permettono di verificare e quindi le funzioni esecutive sono di un'importanza enorme nel nostro funzionamento. Quindi sono quei semi elencato le patologie più frequenti di cui vi occupate a San Raffaele. Ovviamente c'è tutto il capitolo poi della disabilità intellettiva che è il settore più importante che ovviamente rappresenta una compromissione del funzionamento generale delle competenze cognitive. Quindi questo ci ribadisce come, ad esempio nell'ambito della nostra struttura, se chiamiamo in particolare bambini con disabilità intellettiva o bambini con disturbi del linguaggio specifici dell'apprendimento, anche se abbiamo un po' il grosso programma per i bambini invece con disturbi del controllo motorio. Quindi vedete sono problemi tra loro diversi però che tutti interferiscono o possono entrare negativamente sullo sviluppo. Ecco, tra l'altro stiamo vedendo delle immagini del suo reparto. Sì, questo è un po' quello che io definivo molti anni fa una nostra utopia, cioè cercare di creare un contesto che fosse in continuità con i bisogni del bambino. Che cosa sono questi macchinari? Queste sono delle telecamere che ci permettono di studiare il movimento in maniera quantitativa. Cioè queste 12 telecamere possono catturare, mandano degli infrarossi e su dei marcatori che vengono messi e sono molto innocui sul bambino possiamo registrare i loro movimenti e fare una rappresentazione tridimensionale che ci permette di verificare, ad esempio quando si fa una terapia, che sia la tossina botulinica o che sia un particolare tipo di esercizio, verificarmi... Scusi se ne interrompo, questo che cos'è? Questi sono esattamente i marcatori che vengono messi come punto di riferimento. Questi sono gli spazi invece di tipo ludico. Però ecco, quel laboratorio che avete inquadrato è molto importante perché 17 anni fa era veramente una grandissima innovazione e tuttora lo è perché ci permette di misurare in maniera quantitativa il movimento. Voi considerate che in altre funzioni neuropsicologiche disponivamo di test abbastanza precisi e oggettivi mentre nel campo del movimento eravamo assolutamente carenti. Quindi questo ha rappresentato nel nostro istituto e rappresenta una delle attività di ricerca principali però la caratteristica è che è molto utile dal punto di vista clinico. Ieri ho visto due gemelli di 16 anni. Quando avevano 12 anni, attraverso questa tecnologia abbiamo potuto decidere che uno sarebbe stato operato per l'allungamento del tendine di Achille perché camminavano sulle punte. L'altro abbiamo deciso invece che non era un candidato ideale. Ed è interessante come quindi uno ha fatto un percorso chirurgico, l'altro un percorso riabilitativo... E quindi che cosa hanno fatto l'uno e l'altro? Hanno fatto l'uno appunto un intervento e poi abbiamo monitorato i risultati, la riabilitazione postchirurgica. Nell'altro caso invece ha fatto proprio soltanto esercizi, esercizi ed è interessante come i risultati sono stati pressoché analoghi. Ieri l'ho rivisti e con la mamma ripercorrevamo quanto era stato difficile prendere una decisione. Certo, perché voi siete in grado, a seconda del caso, di intervenire nel modo opportuno grazie appunto a queste tecnologie che avete a disposizione. Professore Albertini, perché la maggior parte degli alunni disabili e maschio? C'è una ragione che avete studiato? Questo devo dire che in alcune condizioni c'è una prevalenza, sicuramente è di subito lo spettro autistico, ma questo purtroppo ancora non si conosce, bisogna andare alla ricerca di singole condizioni sindromiche, quindi questo è un argomento assolutamente molto complesso. Ancora non si sa. Allora, voi al San Raffaele Pisana vi occupate di ricerca, ma fate anche assistenza, professore Albertini. Com'è possibile coniugare appunto queste due cose? È un binomio importante? Ma diciamo che noi veniamo da una parte di ricerca scientifica che ha sempre creduto che dalla pratica clinica vengono fuori le domande che spesso poi ti permettono di trovare il costrutto dal punto di vista dell'ipotesi teorica di riferimento che permetta poi di interpretare quei segnali in maniera più generalizzata. E quindi noi crediamo molto che la ricerca traslazionale, cioè quella di trovare dei modelli o comunque avere un'idea, trasformarle in modelli e poi tornare sulla clinica, in modo che ogni caso, ogni bambino possa essere valutato secondo principi e orientamenti internazionali di sicuro riferimento scientifico e possano poi giovarsi di personalizzazioni e al tempo stesso entrare a far parte di una casistica. Non per fare ricerca sui bambini, ma per fare ricerca con i bambini. I nostri più grossi collaboratori sono proprio i familiari, che quando capiscono questo approccio di mettere a disposizione le conoscenze perché possano andare subito a essere utilizzate dai bambini, questa è la cosa più importante. La famiglia giustamente vi aiuta, vi dà una mano ovviamente a interagire con i bambini. Sostenitori, ma soprattutto sono anche proprio sostenitori perché quando percepiscono che il clima è questa collaborazione, perché ovviamente il contesto famiglia e il contesto scuola per noi sono i due contesti laboratorio su cui intervenire, dare strumenti a loro perché possano, accanto alla riabilitazione, che è un intervento più specifico e mirato, promuovere lo sviluppo e la salute dei bambini. Anche la scuola vi dà una mano appunto. La scuola è un contesto importantissimo, devo dire che nonostante tutto quello che si dice, lavorate con gli insegnanti per esempio, e poi devo dire che nonostante a volte ci siano grandi critiche, la scuola per noi è una grande risorsa e in generale si stanno moltiplicando le esperienze assolutamente competenti e positive, quindi noi dobbiamo lavorare con la famiglia e con la scuola perché abbiano conoscenze specifiche rispetto alla condizione che vogliamo trattare e sapere come lavorare. Una ricerca in particolare che stiamo portando avanti con il gruppo di Verona sul cooperative learning, come anche cambiare i contesti. Con un gruppo di Verona? Sì, l'Università di Verona c'è un gruppo di ricerca universitaria, sono pedagogisti, Stefania Lamberti e Agostino Portero, lavorano sul cooperative learning, che è un movimento internazionale che cerca di insegnare a tutti i bambini lo sviluppo anche di competenze sociali per promuovere un'interdipendenza positiva tra i bambini, tenendo conto che il nostro cervello, il cervello che noi chiamiamo limbico, controlla e regola le emozioni che interagiscono con la parte del cervello più razionale, la corteccia prefrontale, quasi che le nostre decisioni le prendiamo sulla base di un confronto tra dati emotivi e dati cognitivi. Quindi una scuola che vuole essere moderna deve promuovere anche l'intelligenza emotiva e sociale, la capacità di lavorare in gruppo. E in un certo senso passate dalle emozioni per riuscire ad agire anche sui problemi dei bambini. Guardi, questa è una cosa molto importante perché il cervello emotivo è il grande dimenticato un po' della nostra cultura. Si parla molto d'intelligenza razionale, non si tiene conto sufficientemente che la parola intelletto viene dal latino intus leggere, cioè leggere dentro e anche interleggere, cioè saper selezionare gli stimoli, quasi che l'intelligenza sia la risultante di processi di apprendimento e che deve riconoscere la capacità interna di una persona e per poter selezionare e interpretare la realtà esterna. Quanti di noi non sanno leggere le proprie emozioni? Se non le sai riconoscere, come fai a gestirle? Allora insegnare ai bambini anche una corretta capacità di riconoscere le emozioni è la base per poterle gestire meglio. E quindi insegnare ai bambini al contatto faccia a faccia, all'interdipendenza positiva, è la premessa perché un bambino con un'intelligenza diversa, sia in senso di difficoltà o in senso di eccellenza, può trovare un contesto. Però il problema è che poi è attuale per il mondo, o ci si salva tutti o non ci si salva nessuno. Quindi creare nella classe la capacità di stimolare l'eccellenza, ma in una prospettiva non autarchica, ma di interdipendenza positiva. Queste cose dovremmo forse applicarle di più alla società e al menaggio. Io infatti la lascio parlare perché è tutto veramente molto interessante. Fate tutto questo a San Raffaele Pisana di Roma. Noi ci occupiamo di questo approccio neuroscientifico a sostegno dei bambini e devo dire che mi viene in mente, molto spesso, a quattro giorni abbiamo visto un ragazzo di 19 anni, cioè l'abbiamo visto a 29 anni, dopo 10 anni di lavoro, vederlo passare da un QI di 23, che era drammaticamente triste, ad un QI di 68, significato in realtà con i genitori discutendo un progetto di come doveva essere messo in azione, perché molto spesso noi facciamo le diagnosi in laboratorio. Ma poi dobbiamo vedere che succede se la persona la mettiamo in azione, creando le condizioni perché si possa esprimere. A volte scopriamo capacità inaspettate, perché il contesto è fatto appunto di obiettivi, emozioni, di persone che sono delle risorse che permettono grandi scoperte. Certo, professore, lei prima ha detto che le famiglie sono molto importanti, le usate come contesto. Perché? Perché il Servizio Sanitario Nazionale forse non dà tutte le risposte? Il Servizio Sanitario Nazionale purtroppo è in difficoltà su questo settore, perché dovrebbe, abbiamo creato delle linee guida anche, delle piane di indirizzo e riabilitazione, abbiamo parlato di disabilità dello sviluppo, sono un gruppo troppo eterogeneo di condizioni e dovrebbero considerarle come un problema da affrontare in maniera specifica. Perché? Pensi che un bambino che nasce con una disabilità intellettiva l'avrà per tutta la vita, avrà una vita media, sparagonabile a una persona senza problemi, e questa persona avrà dei genitori che invecchiano. Quindi sarà un problema di grossi costi. Baume ha detto, pensate che negli ultimi 30 anni la produzione scientifica e culturale è uguale a quella degli ultimi 5.000 anni. Quindi o qui diamo spazio anche a una capacità di dare fiducia alla organizzazione, alla cultura dell'organizzazione. Se no non si va da nessuna parte. È molto importante. Allora io saluto, grazie, il professore Albertini del San Raffaele Pisana di Roma. E adesso allora andiamo in pubblicità. Grazie.